L'isola dei famosi anticipazioni, solei sorge nel cast, spunta un rumor Om, isola dei famosi, l'isola dei famosi anticipazioni, solei sorge nel cast, spunta un rumor Isola dei famosi anticipazioni prossima edizione, nel cast ci sarà di nuovo la popolare influencer E, ormai assodato che una volta finita quest'ultima edizione del Grande Fratello Vippi, inizierà subito il reality show Adventure, condotto da Ilari Blasi E ovviamente è già da qualche settimana che girano insistenti rumor sul cast Proprio a tal proposito il settimanale Vero, ha lanciato un'indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso Di cosa si tratta? Ha rivelato che pare ci sia la concreta possibilità di vedere nuovamente in Honduras solei sorge Prossimamente potremmo ritrovarla all'isola dei famosi Sarà vero? Se così fosse vorrebbe dire che la ragazza non riuscirebbe a far meno dei reality show Soleil sorge nel cast della prossima edizione del reality show VIP di Ilari Blasi? L'ultimo rumor Il settimanale Vero, dopo aver rivelato che la popolare influencer, ed ex fidanzata di Luca Onestini, potrebbe essere nel cast della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, ha anche svelato Un altro succoso retroscena Di cosa si tratta? Il magazine ha tenuto a precisare che al momento non è dato sapere che ruolo potrebbe ricoprire nel reality la sorge La quale è finita al centro dell'attenzione perché sorpresa a cena insieme ad Alex Belli ed Elia Duran Il ruolo che potrebbe ricoprire nel reality show adventure di Canale 5, pare sia ancora in via di definizione Potrebbe esserci la concreta possibilità di vederla nel ruolo di opinionista dopo che ha sostituito egregiamente Sonia Bruganelli al grande fratello VIP per due settimane? Chissà, intanto i fan saranno sicuramente felici di avere la possibilità di rivederla in tv in un ruolo di primo piano, qualora ovviamente la trattativa dovesse andare in porto Anticipazioni l'Isola dei Famosi Cast prossima edizione? Tutte le ultime voci di corridoio Si segnala inoltre che sull'ultimo numero del magazine nuovo, sono stati riportati i nomi dei possibili concorrenti della prossima edizione del reality show condotto da Ilari Blasi Di fatti pare ci sia la concreta possibilità di vedere in Honduras Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine Carrisi, Alessia Macari, Luca Di Carlo L'avvocato di Ilona Staller, Diane Emello, e la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani Tuttavia pare che quest'ultima abbia già detto di non avere la minima intenzione di partecipare allo show, almeno in base a quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti La madre di Belen ha detto di non voler partecipare. La produzione dello show riuscirà a convincerla? D'altronde manca praticamente solo lei all'isola. Visto che tutti i suoi figli, e suo marito hanno già partecipato D'asta ball un'attric Haggai O D' artricchia D' artricchia D' artricchia D' artricchia